Allora, è uscito il primo trailer vero di gameplay di Monster Hunter Wilds, il GDR d'azione praticamente, in cui si cacciano mostri ovviamente dal titolo. Io non sono un esperto del genere, ma, ma, è da tempo che voglio approcciarmi al Monster Hunting e quindi sono molto incuriosito dal trailer. Io non l'ho visto, quindi adesso ce lo vediamo insieme e lo commentiamo, anche perché credo sarà uno dei giochi che porterò parecchio nel 2025, perché il gioco uscirà nel 2025. Non si sa ancora bene quando, ma questa è la data d'uscita. Prima di iniziare vi ricordo che potete partecipare alla giveaway di Instant Gaming, trovate il link in descrizione, in cui potete vincere un gioco a vostra scelta, se venite estratti randomicamente. Queste giveaway arrivano una volta al mese, quindi mi raccomando partecipate, trovate il link in descrizione, potete anche acquistare giochi a prezzi scontati sul sito di Instant Gaming per tutte le piattaforme, anche se hanno molta più disponibilità per PC. Inoltre vi ricordo pure che vado in live tutti i giorni su Twitch, link in descrizione, e seguitemi pure su Instagram e TikTok, link in descrizione. Instagram in particolare, perché là comunque vi comunico sempre quando vado in live. Scusate se questa settimana non ci sono state live ancora, ma ho veramente tanto da fare perché si avvicina la fine dell'anno a scuola e quindi ho parecchie cosine da mettere a posto. Ora, ci vediamo insieme il trailer e lo commentiamo, poi lo rivediamo, lo commentiamo, lo rivediamo, lo commentiamo. A me sembra molto figo, vi dico la verità. Dovrebbe essere un Monster Hunter Open World. Graficamente un salto incredibile. Sembra anche che ci sia un approccio un po' più narrativo del solito. Ne ho iniziati un paio di Monster Hunter, eh. Molto bello da vedere, eh. Vedete, sembra che ci sia anche una sorta di... ciclo stagionale? Questa non è CGI, ma è combattimento, eh. Cioè, è gameplay. Ma no, che bello, però. Design dei mostri, fantastico. Ecco il combattimento. Oh, questo è fantastico. Le animazioni dei nemici sono bellissime. Il salto tecnico è incredibile. Oh, che figata, combattono anche fra di loro. Armi da fuoco. Guardate anche le ambientazioni nello sfondo, oltre design dei nemici e animazioni fantastiche. Io ho scelto a te come lontano per questa espedizione. Grazie, signor. Wow. Devo dire molto, molto bello. 2025 per PS5, Xbox Series XS e Steam, quindi PC. Perciò abbiamo tagliato fuori la Nintendo Switch. Forse perché ancora non è stata annunciata la Switch 2, non lo so. So solo che adesso ce lo rivediamo, senza audio, e lo commentiamo un po' di più. Allora, in questa prima parte c'è veramente un grande miglioramento, si nota e si vede, nei modelli, nelle texture dei personaggi, chiaramente. E, ripeto, sembra che ci sia una maggiore attenzione, una maggiore concentrazione sulla parte narrativa del gioco. Che non mi aspettavo, avendo giocato qualche ora a Wild Hearts e Monster Hunter Rise, non mi aspettavo questa deriva leggermente più narrativa. Sicuramente l'anima rimarrà la stessa. Bellissime le aree aperte, veramente, veramente molto belle. Design dei nemici top, piace veramente molto. E anche animazioni tanto ben fatte, tanto ben fatte. Sia dei nemici, ma anche dei personaggi umanoidi, diciamo così, no? Ecco, questa parte desertica ha delle texture sul deserto che mi sembrano un po' piatte, ma forse è una cosa voluta o che comunque cambierà nel corso del tempo. Anche se un deserto come deve essere piatto, anche quello c'è da dirlo. Sembra veramente molto interessante. Questo nemico, l'illuminazione qua è fantastica. Questo nemico è bellissimo, proprio bello. Con animazioni veramente soddisfacenti da vedere proprio. Anche l'ambientazione è tanto dettagliata, eh. Guardate anche sullo sfondo. Armi da fuoco, che non so se c'erano. Forse sì, non lo so. Negli altri Monster Hunter. Grande livello di dettaglio nell'arma. Questa è una specie di... Contrattacco perri, non lo so. Sembra che anche il feedback del colpo sia veramente... Ottimo. Guardate qua. Run. No, no. Sembra veramente... Un gran bel gioco. Considerate poi che dovrebbe essere open world. Quindi noi ci potremmo spostare liberamente all'interno di una grande mappa. Che poi bisognerà capire quanto è grande. E devo anche capire cosa sono questi momenti in cui si vede chiaramente che la zona è in un modo e poi, o prima, diventa in un altro modo. Sembra essere secca e arida. Prima rigogliosa, poi secca e arida. C'è qualcosa che magari sta inaridendo il pianeta, oppure si tratta semplicemente del passaggio del tempo, il passaggio delle stagioni. Non è chiarissimo. Però, devo dire che sono piacevolmente colpito e sorpreso da questo trailer di Monster Hunter Wilds. E, ripeto, sarà uno dei giochi che sicuramente porterò sul canale 2025 e magari lo porterò anche per parecchio tempo. Quindi sono sempre più interessato, in realtà. Perciò, fatemi sapere voi cosa ripensate di Monster Hunter Wilds. Secondo me, molto interessante. Sorprendente lo stacco grafico. Sorprendente rispetto ai precedenti capitoli. Assolutamente. Bellissime le ambientazioni. Mi sembra buono, molto buono. Anche il combattimento sembra restituire un feedback del colpo soddisfacente. Ecco, queste sono le aree che vi dicevo, no? Rigogliosa, poi no. Non so cosa succede. Però c'è qualcosa che sta succedendo, evidentemente. Va bene? Io vi ringrazio. Vi invito a dire la vostra su Monster Hunter Wilds. E noi ci vediamo o al prossimo video, oppure in live. Grazie a tutti e alla prossima.